Buona giornata e buona festa di Sant'Antonio. Ascoltiamo il brano del Vangelo, Matteo 5, 38, 42. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgergli anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Dà a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Gesù oggi in maniera forte dice non devi opporti al malvagio, cioè davanti a colui che fa il male, tu non devi rispondere con il male. Che cosa si intende qui per male? Male si intende rispondere da nemico, cioè tu partendo dall'azione che un uomo, un fratello ha commesso, un fratello ha commesso del male, ti ha percorso sulla guancia, ti trascina in tribunale per portarti via la tunica, ti costringe di fare un miglio per strada. Qui Gesù si riferisce all'usanza messa in atto dai soldati romani che costringevano le persone a portare dei pesi per un certo tratto di strada o lavorare per un certo tratto di strada. Ricordiamo il Cereneo, obbligato a portare la croce. Ecco, di fronte a questi tre esempi, che sono tre esempi per indicare un male che tu puoi subire da un altro, normalmente tu ti senti giustificato di trattare l'altro come un nemico, per cui se gli fai del male sei nel giusto. Di fatto la società ha recepito questo principio, solo lo ha codificato, ha messo degli argini attraverso la cosiddetta legge del taglione, legge della proporzione. Dunque se uno ti ha cavato un occhio tu puoi cavargli l'occhio, non tutti e due. Se ti ha portato via un dente, gli puoi portare via un dente, non tutti i denti. Devi cioè colpirlo ma in maniera proporzionata. Questa è la risposta sociale al male compiuto da una persona. Gesù dice non opporti al male. Perché? Perché Gesù nessun atto cattivo commesso da un altro può giustificare la decisione di trasformarlo in un nemico da odiare. I monaci antichi dicevano quando anche devi difenderti, sei costretto a difenderti e ancora di più sei chiamato a difendere anche con la forza un più debole, ricordati però che devi usare la tua forza non per far del male al nemico, perché non è tuo nemico. Se gli impedisci di colpirti o di colpire il debole è solo perché vuoi impedirgli di fare un'azione cattiva, di fare un peccato, qualcosa che lo danneggia lui. Quindi nel tuo usare anche la violenza non perdi mai di vista l'amore per l'altro. Questa era l'ideale che è trasmesso tra i monaci che è lo stesso ideale o meglio la stessa vita di Gesù che quando riceve uno schiaffo certamente non dice dammene un altro ma rimprovera il soldato che lo ha colpito. In questo modo instaura un dialogo, gli dà la possibilità di entrare in dialogo con lui. Gesù non lo considera un nemico. Se c'è dunque una ragione per difenderti e difendere il più debole e devi usare la violenza, Gesù oggi ti dice che non c'è mai però una ragione sufficiente, non c'è una colpa commessa da un altro che lo possa trasformare ai tuoi occhi come un nemico, come uno a cui augurare il male, come uno che ormai a te non interessa in maniera assoluta. È sempre un tuo fratello. Gesù non ha mai desiderato di fare del male a nessuno. Ha impedito ai suoi di usare la spada e ha guarito l'orecchio del soldato che era andato a prenderlo nell'olto degli olivi e che era stato colpito dai discepoli. Non ha invocato dal padre un esercito che lo andasse a liberare. Così Gesù ha segnato la storia. Ricordiamo oggi la vocazione di Sant'Antonio. Sant'Antonio era un uomo colto, era già sacerdote. Quando ha visto cinque frati morti ritornare a Lisbona, erano andati a predicare nell'Africa ai musulmani. Avevano predicato il Vangelo nell'amitezza, erano ritornati morti. E che cosa si è scatenato nel cuore di Sant'Antonio? Il desiderio di riandare lui, lui che parlava molto bene, l'arabo, a predicare il Vangelo. Non è nato l'odio verso le persone che avevano fatto quel male, ma addirittura quel gesto di violenza ha segnato la vita e la vocazione di Antonio che ha abbandonato lo stato clericale o meglio, ha desiderato entrare nell'ordine francescano proprio per andare in missione e portare la parola della pace. Così ha reagito al male, considerando quegli uomini ancora fratelli da avvicinare al Signore Gesù. Sant'Antonio dopo non è riuscito ad andare perché si è ammalato e poi la sua predicazione si è svolta in Italia, però ci testimonia come dal Vangelo nascono segni di novità, di vita nuova. Questa è la prospettiva che oggi Gesù ci apre per questa nuova giornata in cui ricordiamo Sant'Antonio. a presto. Grazie a tutti. forniamo a presto.